Tutto secondo Copione in un percorso a ostacoli studiato a Tavolino. Di Gennaro provoca e offende la piazza suscitando malumori e la determinata presa di posizione del blocco lancianese presente in società. Il presidente De Vincentis in una struggente letterina sulla pagina facebook del Lanciano Calcio 1920 annuncia di lasciare il club poco prima della conferenza stampa tutta lancianese che ha scoperchiato il vaso di Pandora in una gestione poco seria del passato e del presente in soldi investiti ma anche guadagnati dunque non solo nobili intenzioni ma anche il pranzo e la cena da mettere insieme. Non posso fare altro che apprendere quanto dichiarato dal comunicato della curva sud Ezio Angelucci del totale dissenso verso l'attuale presidenza scrive il presidente il mio modo di fare calcio è basato sulla trasversalità di azioni congiunte tra società calciatori tifosi istituzioni e territorio come leggo da comunicato si continua per il futuro ci auguriamo di trovarne uno di presidente degno della nostra città mi tocca constatare che è venuto meno questo mio modello di fare calcio deduco dal comunicato che hanno altre necessità a questo punto ritengo terminato il mio impegno a lanciarlo e poco dopo eccoli tutti insieme dirigenti dissidenti e staff tecnico Giancarlo Nicolucci Fabio Lombardi l'ufficio stampa il tecnico di Pasquale responsabile del settore giovanile d'Orsogna Bucci il presidente onorario Mario Gian Cristofaro blocco comune nel condannare lo sproloquio di Di Gennaro gratuito e concertato chiaramente strumentale per creare parapiglia e fornire l'assist al presidente per lasciare e poi i numeri i conti le bugie dette col sorriso la condanna di una gestione definita poco seria e del tutto a proprio uso e consumo il dato così è tratto ma adesso il grave errore sarebbe quello di cadere sotto ricatto il presidente infatti artefice del destino del lanciano calcio potrebbe far morire il club non iscrivendolo o lasciarlo in altre mani in mani sicure l'imprenditore colaizio del vicino molise potrebbe essere il nome giusto ma trattative sono in corso la città non si spezza né si piega come scritto dagli ultra della curva sud meglio ripartire da categorie ancora più basse che inginocchiarsi questione di orgoglio che la storia di lanciano da sempre insegna